Ciao ragazzi, bentornati in questo video, sono Kyle Ragazzi, oggi siamo tornati su Clash of Clans Allora, è uscito da poco l'aggiornamento Purtroppo sono già le 4.53 perché sono appena tornato da scuola Cioè, Supercell, fammi uscire tutti gli aggiornamenti quando sono a scuola Perfetto, apriamo Clash of Clans Mi sono dimenticato che non l'ho aggiornato da iPad Intanto ragazzi, ne approfitto per guardare un attimo Clash of Clans su l'App Store Guardate un po', esplora il nuovo mondo Praticamente questo qua è il nuovo villaggio di Clash of Clans Che ha un tema, non so, un design totalmente diverso Mi ricordo abbastanza i Clash of Clans, tra virgolette, quelli fake Quelli che cercavano di imitarlo Come potete vedere abbiamo... Cazzo se è figo Io direi, a parer mio, hanno fatto bene a rinnovare totalmente la grafica E come potete vedere qua ci sono anche i doppi canoni che ho previsto in questo video qua Molti hanno detto, ok, è fake, è fake Cioè guardate, c'è anche il mortaio con tre buchi Ok, questa suonava molto male Carino, veramente molto carino Perché sta attore della cere è bassa? Lo andremo a scoprire insieme Apri ragazzi, apriti sesamo Clash of Clans Allora innanzitutto vediamo la schermata totalmente rinnovata Allora ragazzi, praticamente avevo già aperto la guida per quanto riguarda la barca Non sono andato avanti apposta perché così lo facevo insieme a voi Allora la signoria mi dice Non preoccuparti, non ci perderemo, sappiamo come tornare indietro Ok, grazie, grazie Ah, devo zoomare sulla barca Tac Naviga Ragazzi, lo sto guardando per la prima volta insieme a voi Ok, ci... Nooo L'oro diventa 5.000 e un'elise strano Terra Ma che strano posto è mai questo? Sì Siamo fortunati capo, possiamo riparare questi vecchi edifici per metterci al riparo Grande, brava signorina 300... no, 3.500 di oro Eh, fanculo, già mi inizi a chiedere di utilizzare gemme Ok, grazie Fiù, trascurriamo qui le note Sarà la nostra casa lontana da casa Ahah, ok, arrivano le signorine per servire i nostri barbari Zoom, 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 non posso zoomare Che, che, che è questo? Non sta dormendo Ehi, abbiamo ospiti, ora E tu da dove sbuchi? Eh, da dove sbuchi Il mio rifugio lo avete totalmente messo a nuovo Vi siete davvero meritati un bel giro Sono un capomastro, volete vedere il mio edificio preferito Donabilità speciale alle tue truppe C'è una sorta di laboratorio Ok Ricerca No No Barbare infuriati No No Naturalmente ci serviranno delle truppe per sconfiggere chi è migliore costruttore Ok Truppe capo, le nostre abilità qui possono essere davvero utili Attacco Cerca No Allora Mi sento un abbo Allora, innanzitutto Oh, cazzo se è carino Prendi, hanno spostato il mare dall'altra parte Io direi di attaccare subito da questo punto qua per distruggere il doppio No Sono tipo i barbari scelti di Clash Royale Che figata stratosferica No, cos'era? Cos'era? Era la miniera di gemme? No No, non ci credo Ok Questo aggiornamento si sta rivelando troppo una figata Troppo una figata Ah no, stanno attaccando anche noi Cosa? Così si fa Da queste parti l'attacco migliore vince il premio E non si ruba? Non siamo maleducati Ah Capito capo L'attacco migliore è stato il tuo Abbiamo ottenuto il bottino come premio Cioè Uno si cucca le risorse solamente se fai l'attacco migliore Torna a villaggio Ok Abbiamo un costruttore Ho sempre tante idee ma Potrei anche venire a farti visitare Mamma brutto stronzo già a dormire Sì bla 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 Mi interessa poco Allora 60 novità qua Edifici? Eh non abbiamo l'elizier figa Abbiamo niente Eh La madonna Troppe cose nuove È un unico momento Allora Difese Cannoni Mura Torre del ralciere Trappola Spintone No Guardate tutte queste robe nuove Mega tesla Multimortaio Cazzo se è figo E qua abbiamo la chat del mio clan normalmente Base del costruttore si chiama Prendiamo Prendiamo risorse Oh Ok ragazzi Sono tornato al mio villaggio normale Allora guardiamo un po' le novità No ho preso già tutte le risorse Cazzo Questa è una bella implementazione Allora Per quanto riguarda il villaggio normale Non ci sono update Guardiamo se ci sono Eh Nuove cose da fare Abbiamo No Non abbiamo nessuna Nessuna nuova truppa Negozio Difesa Risorse Difese Strano Non abbiamo niente sul villaggio normale Io direi Allora di andare a concentrarci qua ragazzi Tac Prendi Andiamo all'attacco Figata Figata Allora Donde sta Eccolo qua Il cannonino Tac Distrugge il cannonino Ragazzi Quanta nostalgia No Una pietra come quello là Dell'isola di Pasqua Troppo figo Madonna Ragazzi Sto Sto villaggio qua Mi fa tornare In mente Quando avevo appena iniziato a giocare A clash of clans Questo praticamente sarà Totamente una novità per tutti Allora Qua abbiamo i grandi titanic E le scialuppe Ne abbiamo una Eh giustamente gli ho fatto il 100% Non poteva essere altrimenti Vittoria 100% Ok Il nostro nemico ha fatto solamente 29 Perciò prendiamo noi tutto No aspetta Le truppe si mettono a fare da sole No Che figata Sgherro mutante Strega notturna Quella di Clash Royale Mongolfiera cimiteriale Ok Super peca Ok al momento ci sono solamente queste cose qua Però sono sicurissimo Che saranno una figata una dopo l'altra Distruggiamo Easy easy Distruggiamo anche sto ragazzo qua Sono curioso di sapere che cosa sia sta roba qua Mi sta attaccando lo stronzo Vorresti Prendi 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 Bello essere a livello 169 E praticamente Avere un villaggetto del piffero Allora questo cos'è? No Torre dell'orologio Eh Devo alzare il municipio Cos'è questo? Miniera di gemme Lo sapevo Macchina da guerra No Allora ragazzi Questo aggiornamento È proprio la più grande figata di questo mondo Ehm Allora in caso di pareggio Nessuno prende un cazzo Insomma Hanno bilanciato totalmente di nuovo il gioco Bello Bello Allora ragazzi Questo era il video di oggi Come al solito Spero vi sia piaciuto Ricordo di lasciare un like Un commento E vi porterò tanti Tanti altri video Su questa nuova base Di Clash of Clans E vi ricordo di iscrivervi Così riceverete anche le notifiche Se siete da mobile Attivatele tramite questo modo Che vedete ora sullo schermo E invece questo nel modo Se siete da pc Ragazzi Era tutto Questo era il primo assaggio Del nuovo aggiornamento Vi prometto che ci Smadonerò come non so cosa E sarò di nuovo il primo player in Italia See you again 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 See you again